Buonasera, ben trovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. Parliamo di scuola perché a pochi giorni della ripresa delle lezioni aumentano le assenze per febbre e raffreddore. In Friuli i pediatri richiedono ogni giorno ciascuno 5 o 6 tamponi per bambini che presentano sintomatologie che sono assimilabili o sono apponibili a quelle del Covid. Di questi circa l'1 o 2% risultano poi positivi. Con la riapertura delle scuole le famiglie friulane e i pediatri di libera scelta sono sempre più in difficoltà per l'emergenza Covid e la situazione è destinata a peggiorare con l'arrivo del periodo dell'anno in cui le malattie da raffreddamento sono molto più frequenti. Nell'ultima settimana i pediatri che operano all'interno del territorio dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale hanno richiesto il tampone per almeno 5-6 bambini al giorno. Per il segretario della sezione friulana della Federazione Italiana Medici Pediatri, Paolo Lubrano, l'allungamento dei tempi di risposta da parte delle aziende sanitarie era prevedibile a fronte di un incremento di richieste destinato a salire. Si parla di una media di 48-72 ore per eseguire il tampone e di 24 ore per avere la risposta. Per i prossimi giorni, continua il pediatra, la SUFC si starebbe organizzando per il prolungamento dell'orario di apertura dei centri destinati a eseguire i tamponi. Attualmente le sedi di riferimento sono Gemona, San Giorgio di Nogaro e Udine, oltre ad alcuni distretti territoriali, mentre la pediatria del Santa Maria della Misericordia sta fornendo il servizio in un padiglione apposito per i bambini al di sotto dei due anni. Che fare dunque se i bimbi hanno il raffreddore? Se i sintomi sono lievi, basta aspettare 24 ore per accertarsi che la situazione migliori, ma se sono sofferenti, non riescono a respirare bene e hanno la tosse, bisogna immediatamente ricorrere al pediatra. Generalmente solo l'1-2% dei sintomatici è positivo al Covid. Se i disturbi persistono, è necessario effettuare un secondo tampone. Solo a guarigione accertata possono ritornare a scuola, ovviamente con il certificato. Purtroppo la maggior parte delle patologie che colpiscono i bambini in questo periodo sono analoghe a quelle del Covid, conclude Lubrano. Pertanto è evidente il disagio che si crea alle famiglie, almeno fino a quando non arriveranno i tamponi veloci, la cui risposta si ottiene in 15-20 minuti. Un caso di positività alla scuola primaria Gabelli di Pordenone. Alcuni compagni sono in quarantena preventiva, per il resto le lezioni proseguono in presenza. Un alunno della scuola primaria Rissi dei Gabelli di Pordenone è risultato positivo al Covid-19. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Flio Occidentale ha effettuato le conseguenti attività di tracciamento dei contatti, anche in ambito scolastico, e ha disposto le necessarie misure di quarantena preventiva che riguardano alcuni compagni di classe. Per tutti gli altri studenti del plesso, invece, le lezioni proseguono regolarmente in presenza. La scuola Gabelli fa parte dell'Istituto Comprensivo Centro, come la Media Centro Storico, nella quale si erano verificati due casi di positività il 17 settembre. Il dirigente scolastico, Pier Vincenzo Di Terlizzi, ricorda che le misure organizzative, l'impegno di ognuno per la propria parte, e la collaborazione con le autorità sanitarie, possono permettere di attenuare il rischio e di affrontare nella maniera più adeguata queste evenienze. Il dirigente sottolinea anche che da lunedì 5 ottobre prenderà il via l'orario a tempo pieno nelle scuole dell'infanzia Vittorio Emanuele II e Beata Domicilla. Grazie all'utilizzo dell'organico aggiuntivo Covid sarà possibile garantire l'estensione dell'orario fino alle 16.30. Sempre da lunedì le primarie Gabelli, Comina 4 Novembre e Collodi, svolgeranno l'orario completo. Per chiudere la pagina Covid i numeri per la regione Venezia Giulia con l'aggiornamento di oggi che conta 28 nuovi contagi, 28 nuovi positivi con il totale degli attualmente positivi che sale a 735. Dei nuovi casi 13 sono in provincia di Udine, 8 in quella di Pordenone, 5 a Gorizia e 2 a Trieste. 6 restano i pazienti in cura, in terapia intensiva mentre 19 sono ricoverati in altri reparti. Solamente pochissime persone che non rientrano in una delle categorie che sono considerate a rischio non potranno acquistare il vaccino anti-influenzale nelle farmacie. In provincia di Udine ognuno avrà a disposizione solo una decina di dosi e quelle ordinate dal Ministero della Salute non sarebbero sufficienti a garantire la copertura prevista del 75%. In partenza la campagna di vaccinazione è anti-influenzale ma al momento il vaccino è disponibile solo per le categorie considerate da sempre a rischio. Non ci sono abbastanza vaccini e non riusciremo ad averne e non riusciremo ad accontentare chi in autonomia sul Consiglio del Medico volesse vaccinarsi. C'è il Ministero che si sta attivando per riuscire a procurare altri vaccini da altri canali come può essere da fonti extraterritoriali, dall'Europa insomma. Ne sono stati ordinati troppo pochi? Sì, questo è il problema. Sono stati ordinati pochi, ci si è basati sulle vaccinazioni dell'anno passato che non aveva raggiunto l'obiettivo e soprattutto l'ordine è stato tardivo quindi non sono riusciti a riorganizzare la fornitura sul territorio, le farmacie. Siamo tardi. E quindi adesso ci sarà una corsa al vaccino per chi appunto non rientra nelle fasce a rischio? Fino a che non abbiamo notizie di procuro di vaccini da qualche fonte o una produzione supplementare non abbiamo notizie, le attendiamo con ansia. Lei in particolare quante richieste ha avuto nella sua farmacia? Ogni giorno una decina di richieste, sicuramente. Sì, 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 anche di più. E a quante potrà dare risposte in futuro? Stante i numeri, sempre che riescano a ridistribuire le rimanenze, io credo che una decina di vaccini non di più. Al giorno? No, no, in tutto. Ogni farmacia avrà a disposizione tra i 10 e i 12 vaccini ridistribuendo le rimanenze dell'azienda sanitaria o dei medici di medicina generale. Sempre che facciano presto, prestissimo e la campagna vaccinale si chiuda in tempi brevi in modo che anche noi riusciamo a inserirci con queste poche dosi a seguire. Sempre di vaccini ha parlato anche il presidente della regione Fedriga che poi si esprime positivamente con soddisfazione sull'ok che è arrivato per i test rapidi nelle scuole. Test rapidi nelle scuole è una buona notizia? Noi la stiamo sperimentando già da tempo e è un'ottima notizia e fortunatamente è arrivata. Stiamo verificando, come sapete, anche i test rapidi molecolare che guardano l'antigene e quindi non l'RNA e questo è anche positivo perché l'antigene ci può dare un segnale importante sulla contagiosità della persona. Ad esempio nel virus influenzale, per capirci, l'antigene, diciamo, rimane quindi la proteina che sta intorno, rimane attiva circa per 8-9 giorni mentre l'RNA addirittura per l'insulenza per 50 giorni. Voi capite come possono essere falsati o diciamo non comprensibili i dati se non implementiamo e grazie ovviamente alla ricerca che viene fatta le capacità di analisi della malattia. In questo senso il vaccino è influenzale. Ci sono delle regioni che hanno... ci sono delle difficoltà nell'approvvigionamento in ogni caso so che è stato fatto un accordo di solidarietà fra tutte le regioni. Sì, noi non l'abbiamo... anzi, perché abbiamo fatto richiesta da subito e quindi siamo molto bene anzi, siamo quelli che danno solidarietà come Fruivenza Giulia. Detto questo, il problema secondo me è tutto l'approvvigionamento di tutta la parte diciamo esterna alla pubblica quindi privata e chi non è all'interno delle categorie che possono usufruire gratuitamente del vaccino. Su quello mi auguro che si possano implementare le scorte perché ovviamente il vaccino antinfluenzale risulta determinante anche per riuscire a distinguere soprattutto con la stagione più fredda i diversi rischi che possono esserci tra un'influenza e il Covid ed è chiaro che avendo sintomi molto simili il vaccino può aiutare a fare questo discernimento. Il Presidente della Regione Federica ha firmato la nuova ordinanza che estende da domani e fino al 15 ottobre prossimo le misure per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Rimangono in vigore le prescrizioni che erano già applicate sul territorio regionale e stabilisce inoltre che le strutture adibite ad ospitare manifestazioni sportive di carattere non professionistico possono arrivare fino a un massimo di mille spettatori all'aperto e personale atleti inclusi al chiuso sempre con mille unità quanto all'impiego di mascherine o di adeguate protezioni per naso e bocca viene steso anche agli sport non professionistici all'aperto e confermato nelle strutture al chiuso comprese quelle di spettacolo come cinema e teatri l'adozione di protocolli sanitarie e infine obbligatoria per gli eventi sportivi al chiuso con più di 200 spettatori c'è una svolta storica per il porto di trieste è stato siglato d'accordo con la tedesca Hala per una partnership con Riccaduto e su tutta la regione più di Venezia giula la conclusione dei lavori della piattaforma logistica è il nuovo accordo con la compagnia tedesca Hamburg-Affenund Logistik che assumerà il controllo di PLT una partnership che di fatto rende reale l'accordo tra gli scali di Hamburgo uno dei più importanti a livello internazionale e Trieste l'appuntamento di oggi io credo che debba essere sottolineato alla portata storica di quello che sta succedendo perché pensare che la più grande società di gestione del porto di Hamburgo che è certamente uno dei più grandi porti europei decida di investire con una azienda partecipata e controllata dalla municipalità hamburghese a Trieste e sul porto di Trieste credo che porterà sviluppi che ci consentiranno di intercettare traffici e soprattutto di matchare le expertise che ci sono tra chi gestisce il porto di Trieste e il porto di Hamburgo è chiaro che è una grande operazione nel senso che ALA non ha bisogno di presentazioni almeno per chi per chi è del settore e poi insomma il senso di un'operazione di questo tipo è che l'Europa c'è accetta la sfida diciamo della via della setta non quella della Belt and Road Italia e Germania su questo possono fare un'operazione intelligente e un'operazione europea finalmente che si pone all'interno di quelli che sono i giochi tra blocchi a cui assistiamo tutti i giorni è importante per Trieste e anche per Hamburgo come potete ascoltare sulle nostre discorse siamo molto orgogliosi è un nuovo inizio per il porto di Europa di Trieste l'infrastruttura che si apre oggi inizierà ad operare in gennaio 2021 ed è qui partiamo ed è qui partiamo siamo felicissimi di avere un socio della statura di Hala perché ci aiuti anche a sviluppare ulteriormente ad ampliare anche nelle aree della lavorazione a caldo della feriera piuttosto che del molo ottavo dicevamo dunque quello siglato a Trieste è un accordo che avrà sviluppo importante per il resto della regione al quale guarda con interesse anche Confindustria Udine è un accordo per il Friuli Venezia Giulia è un accordo per l'Italia ma è un accordo di politica industriale internazionale e attenzione non parliamo più di One Belt One Road parliamo di Via della Seta perché One Belt One Road è un progetto cinese Via della Seta è un crocevia è una strada che si apre da un lato all'altro del mondo e in questo caso con i tedeschi che investiranno oltre il 51% su questo progetto si intuisce l'importanza del porto di Trieste l'importanza di questo progetto nello specifico e anche quelli che saranno gli sviluppi delle aree industriali del nostro circondario non solo Abbiamo fatto tanto facciamo anche l'ultimo miglio affrontiamo l'ultimo periodo senza subire danni che potrebbero essere irreparabili è l'appello che l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha rivolto al Premier Conte in collegamento da Roma in occasione della consegna della centesima nave da crociera la Enchanted Princess Bono non ha chiesto aiuti finanziari ma un sostegno il prosieguo del sistema di aiuti alle società armatrici che dice ha funzionato molto bene fino ad ora Consegnata a Monfalcone la centesima nave da crociera di Fincantieri si chiama Enchanted Princess della diciottesima delle unità costruite da Fincantieri per Princess Cruises nel cantiere Isontino con una stazza lorda di 145.000 tonnellate la capacità di ospitare a bordo fino a 4.610 passeggeri in 1.830 cabine oltre a 1.411 membri dell'equipaggio è realizzata sulla base del progetto di successo delle gemelle Royal Princess Regal Princess Majestic Princess e Sky Princess costruite sempre nello stabilimento di Monfalcone a partire dal 2013 questa classe ha inaugurato una nuova generazione di navi riscontrando un enorme apprezzamento da parte del pubblico dei croceristi e proseguirà con Discovery Princess che sarà consegnata nel 2021 Enchanted Princess al pare di quelle della stessa classe che l'hanno preceduta rappresenta un punto di riferimento tecnologico a livello europeo e mondiale per il layout innovativo le elevatissime performance e l'alta qualità di soluzioni tecniche d'avanguardia l'ottimismo c'è se noi partiamo se ripartono le progiere in Italia come sapete sono già ripartite finora i protocolli tengono e se tengono i protocolli la ripartenza sarà molto più numerosa di quello che è che attualmente è un momento difficile per la comunità nazionale internazionale però questa società riesce a esprimere resilienza innovazione e diversificazione lo ha detto il Premier Conte appunto in collegamento da Roma con i cantieri di Monfalcone della Fincantieri il Presidente ha detto di aver parlato di Fincantieri con il segretario degli Stati Uniti Mike Pompeo durante l'incontro odierno che ha espresso apprezzamento per il gruppo italiano abbiamo dato un segnale con la possibilità di riprendere i viaggi da crociera in massima tranquillità e serenità quindi questa cerimonia ha concluso e conferma di una grande resilienza principio di incendio si è sviluppato questa mattina nel complesso chimico ex caffaro di Torviscosa l'area interessata è quella in fase di dismissione della linea della cellulosa si è incendiata la coibentazione di un silo durante lo smantellamento l'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco di Cervignano intervenuti con un autobotte dal comando di Udine la colonna di fumo è stata avvistata e segnalata dagli abitanti della città un operario è rimasto leggermente intossicato questa mattina mentre stava eseguendo la ristrutturazione di un tetto di una casa a povoletto utilizzando la fiamma ossirica ha causato lo svilupparsi delle fiamme che hanno danneggiato sia le coperture che alcuni ambienti interni della casa è un complesso intervento c'è stato oggi a Tolmezzo per i vigili del fuoco e i tecnici di Accegas APS AMGA dalle 13.30 per contenere una fuga di gas metano causata dalla rottura di una tubazione da parte di una macchina operatrice impegnata nell'asfaltatura di una strada in via dell'industria e restando alla cronaca ha denunciato una cittadina cinese per lo sfruttamento di due connazionali vediamo il servizio da settimane ormai le famiglie di quel condominio non ne potevano più di rumori molesti a tutte le ore del giorno e della notte erano stufe anche del continuo via vai di uomini di tutte le età concentrati in particolare nelle ore notturne e nei fine settimana così sono scattate una serie di segnalazioni ai carabinieri di Palmanoba è l'inizio dell'estate di quest'anno quando vengono avviate una serie di indagini anche tecniche si scopre subito che in un appartamento al decimo piano di una palazzina di Cervignano si svolge attività di meretricio i militari della compagnia della città stellata nella giornata di ieri si sono finti clienti e hanno fissato un appuntamento hanno scoperto così che nell'alloggio affittato da una cittadina cinese di 52 anni con precedenti venivano sfruttate altre due cittadine cinesi di 53 e 43 anni il costo a prestazione poteva variare da 50 a 200 euro sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti tra cui preservativi e giochi erotici la cittadina di 52 anni è stata denunciata a piede libero per sfruttamento della prostituzione aveva preso in affitto anche un alloggio a San Donà di Piave per svolgere la stessa attività illecita anche quest'ultimo appartamento in collaborazione con l'alicoto operativa della compagnia dei carabinieri di San Donà è stato posto sotto sequestro i clienti provenivano per lo più dalla zona del Cervignanese ma anche da zone più lontane erano sia giovani che signori attempati fissavano gli appuntamenti tramite la 52enne che a sua volta pubblicizzava l'attività di Meretricio sui siti web e restando alla cronaca i carabinieri di Porto e None hanno restato in flagranza un ausiliario di una casa di riposo di Roveredo in piano che derubava gli ospiti della struttura e che in 5 diversi colpi aveva sottratto beni e denaro per il valore di 1000 euro c'è un'interrogazione della deputata della Lega Vagna Gava rivolta al ministro dell'interno per chiedere controlli ferre in tutta Italia relativamente ai richiedenti asilo che trovano un lavoro e che dunque andrebbero a superare i 6000 euro il controllo della prefettura di Pordenone sullo stato economico dei richiedenti asilo ha evitato che ci fossero casi di persone che in attesa dello status di rifugiato godessero dei programmi di accoglienza che prevedono vita e alloggio gratuito e 2 euro e mezzo al giorno del pocket money pur percependo un reddito sufficiente questo perché alcuni stranieri hanno trovato un lavoro seppur a tempo allo scadere del superamento dei quasi 6000 euro annuali cifra pari all'assegno sociale vengono estromessi dall'accoglienza perché economicamente autosufficienti tali controlli rafforzati dall'ex prefetto Maria Rosaria Maiorino fin dal 2018 attraverso l'analisi delle buste paga emesse dal datore di lavoro molto spesso cooperative hanno permesso di intervenire tempestivamente al raggiungimento di quel reddito lasciando che la persona si mantenga in modo autonomo nel caso in cui le sue condizioni economiche tornino precarie il richiedente asilo torna nel circuito dell'accoglienza secondo la deputata della Lega Vanni Agava i severi controlli devono essere applicati con rigore su tutto il territorio nazionale oggi ho depositato un'interrogazione ai ministri Lamorgese e Catalpo per sapere per capire se ci sono in tutto il territorio nazionale quella serie di controlli incrociati avviati anche dalla prefettura di Pordenone per verificare se i richiedenti asilo che hanno il diritto al reddito di sostentamento una volta che hanno trovato il lavoro comunicano alla prefettura in modo che il reddito così sociale venga sospeso credo che agli italiani serva chiarezza perché sono soldi degli italiani e credo soprattutto che siano anche dei controlli doverosi ma non manca chi vuole fare il furbo e dalla prefettura di Pordenone fanno sapere che ci sono stati alcuni casi di richiedenti asilo che hanno dichiarato di essere indigenti pur avendo un lavoro ma in quel caso si tratta di reato di falso di cui si occupa la procura della Repubblica approvati dal Consiglio regionale i primi 21 articoli dei 52 di cui si compone il testo base del disegno di legge in materia di lavoro disposto dall'assessore regionale Alessia Rosolenne che sottolinea come siano passati 15 anni dall'approvazione della precedente legge quadro sul lavoro in Friuli Venezia Giulia e nel complesso il quadro generale è peggiorato nel disegno di legge trovano più spazio temi quali la digitalizzazione l'innovazione il riferimento al lavoro agile sono valorizzati con parti della formazione e dell'orientamento con il welfare aziendale assieme a responsabilità sociale d'impresa che assume un ruolo centrale ed è fondamentale il concetto di conciliazione tra famiglia e lavoro per capozzare del Movimento 5 Stelle c'è riconoscimento che il testo è frutto di un lavoro che ha visto coinvolte le parti sociali puntualizza che i centri per l'impiego architrave delle politiche sul lavoro devono essere di competenza regionale per Onsel di Sinistra Open una legge sul lavoro avrebbe dovuto essere un momento qualificante invece siamo a discutere essenzialmente di una legge di manutenzione queste alcune delle posizioni espresse in merito e chiudiamo parlando del giro d'Italia a una decina di giorni dal suo arrivo in Friuli sono tanti gli eventi che si stanno organizzando dalle cittadine ai paesi più piccoli nonostante le restrizioni anti-covid il Friuli risponde presente al passaggio del giro d'Italia con tanti eventi collaterali il primo sarebbe stato la pedalata in rosa non competitiva tra Faedis e Torreano organizzata dalla El Paiti per sabato rinviata a causa del maltempo previsto ma in generale tutti dal paese più piccolo alla città si sono organizzati per accogliere il giro Dino Persello porterà in diversi luoghi il suo spettacolo ciclismo e poesia e poi ancora mostre a partire da quella di Cavalicco dedicata al ciclismo udinese negli anni 50 le valli domenica 11 ottobre proporranno la castagnata della Corsa Rosa e la festa del castagno gigante a Pulfero mentre sabato 10 ottobre a Villanova delle Grotte Lusevera concerto in Grotta e poi il risveglio delle Tigri con un'esibizione di tiro la fune matodiale maschile e femminile anche Villa Manin aprirà le sue porte poi spostandosi a Ragonia una conferenza su Bottecchia musei e castelli aperti con visite naturalistiche al lago di Ragonia a Dabiano per sabato 17 ottobre è in programma l'intitolazione della strada dello sport che Dabiano porta a Piancavallo salita Pantani Bertiolo e Faedis apriranno le loro cantine e a Degliacco onorerà i suoi campioni Alessandro Orlando e Chiara Cainero Udine città di partenza proporrà un'edizione speciale di Udine sotto le stelle in rosa il lunedì 19 ottobre il giorno prima della tappa alle 17 vedrà sfilare tra le vie cittadine la fanfara della Iulia San Daniele città d'arrivo di tappa tra le altre cose proporrà un mercatino in rosa un'esposizione di biciclette d'epoca una serata dedicata a Pantani ed è tutto per il nostro telegiornale grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata in nostra compagnia con l'appuntamento in particolare del mercoledì tra poco con Eletroshock grazie ancora arrivederci grazie a tutti